Noi siamo la rete degli studenti medi, le unione degli universitari e la FieldCamps di Venezia e siamo qui oggi perché il primo maggio è la festa dei lavoratori e deve essere la festa di tutti i lavoratori. Siamo qui a sostegno di tutti i lavoratori che sono costretti a lavorare il primo maggio perché pensiamo che i diritti dei lavoratori vadano oltre le logiche commerciali e quindi vogliamo fare festa dove la festa non c'è.